ok siamo online sto diventando vecchio ragazzi ho 40 anni e sapete sono un po' rincriccato adesso anche quando mi siedo sulla panca mi vedete meno fluido del solito comunque benvenuti a questa puntata serale delle 20 dell'episodio 3 di doomtube oggi parliamo del natti or not l'ultima volta abbiamo parlato della shistorm ancora prima del live to die quindi se avete perso gli episodi precedenti andatevi a recuperare queste puntate ovviamente non hanno una sorta di come dire obiettivo prestazionale come gli altri miei video che voglio fare tante visual ma servono semplicemente per parlare di temi che solitamente non tratto perché non vengono cagati come questo video che verrà visto da poche persone ma non importa chi lo vedrà sono quelli che veramente apprezzano il mio canale quindi lasciamo perdere i gossip lasciamo perdere altri temi un po' più centrali e parliamo del anzi perché no questo tema sicuramente può piacere quindi natti or not vuol dire naturale o no quindi sei dopato o non sei dopato molti personaggi del fitness come sapete sono topati altri sono natural altre sono drag free io in tanti miei video faccio questa domanda a tanti miei ospiti e molti rimangono di stucco a volte non rispondono a volte dicono sono drag free e lo giuro sui miei cari altri dicono solo natural altri non conoscono la differenza il termine natural potrebbe essere una cosa genuina come mamma ti ha fatto però a volte potrebbe essere un soggetto che ha smesso di doparsi ed è tornato al suo stato naturale ma solo temporaneamente appena torna a doparsi non lo è più e però se dovesse fare un test in quel momento avendo scaricato il farmaco sarebbe completamente natural drag free è un termine invece che non so se dove è stato coniato molti dicono che drag free non vuol dire niente vuol dire senza droghe vuol dire non ha droghi in quel momento ma in realtà ormai per consuetudine si usa dire a drag free un soggetto come me che non ha mai utilizzato in tutta la sua vita neanche per gioco ma neanche per scherz ma neanche con deroga un farmaco con il bollino doping o wada quindi se prendiamo del cortisone non siamo più drag free se ci siamo fatti una canna non siamo più drag free come nel mio caso nel senso io non ho mai fatto una canna non che non lo sia più e quindi per questo vabbè qui siamo agli estremi ovviamente non che una canna ti faccia diventare grossi però comunque se vogliamo essere dogmatici e precisi drag free è una persona che praticamente è illibata immacolata non ha mai proprio toccato nulla che non sia stato prodotto in maniera endogena dal suo corpo anche anche sappiamo tutti ormai che i farmaci chi più chi meno è molto facile uscire da questo range però che io ricordi non ho mai preso niente che oddio forse una pomata cortisonica perché avevo un'infiammazione a linguine però se non sbaglio non c'era il bollino della wada se non sbaglio me lo ricordo bene perché gli dissi al mio dermatologo ma non vorrei perdere il bollino verde drag free cento per cento lifetime achievement lui mi guardò forse ti serve un neurologo più che un dermatologo chiusa questa parentesi come sapete nel mondo del fitness tanti personaggi si vendono come fenomeni genetici tanti ne ho portati anch'io sul mio canale tanti hanno fatto scandalo ora non voglio fare dei nomi ma se dovessi proprio fare dei nomi prenderò per soggetti con cui ho delle confidenze prendiamo mettiamo che sono mattia cadinu filippo picci federico sanna soggetti che hanno dei fisici fuori dal comune e si sono dichiarati ovviamente drag free o natura la seconda di come loro conoscevano quei termini e le persone si sono indignate ora questa cosa da cosa nasce secondo me da prima cosa invidia cioè vediamo un soggetto che è fisicamente superiore a noi in tutti i sensi esteticamente a livello di forza a livello di un asse e la prima cosa che ci viene in mente è impossibile essere così ma noi stiamo semplicemente facendo questo commento basandoci su di noi cioè noi attribuiamo i nostri insuccessi sul fatto che l'altro ci è riuscito e noi no e quindi secondo noi è impossibile essere come lui quindi la prima cosa da dire è dopato è un ladro sta rubando sta truffando un po come quando vediamo un tizio che c'è un sacco di soldi avrà sicuramente che ne so evasua le tasse o avrà rapinato una banca o sarà figlio di papà ma questo è sempre un commento dettato dall'invidia ed è un sentimento molto italiano ora io quando iniziò a fare powerlifting vedevo persone che facevano pesi enormi mettiamo la panca no? mi ricordo quando vedevo uno che faceva 180 di panca e ne facevo 150 e dico cazzo ho fatto una fatica già per migliorare questo massimale come cazzo faccio a prendere 30 kg in più? sicuramente c'è il farmaco non si spiega ora sicuramente qualche soggetto avrà utilizzato steroidi per arrivare a 180 di panca ma questo non vuol dire che tu non ci puoi arrivare senza per questo dico questi soggetti che noi guardiamo in tv su instagram o vediamo i video su youtube che sono così avanti rispetto a noi ci fanno venire voglia di essere come loro perché hanno dei fisici spaziali ora nessuno prenderà come esempio un soggetto scarso geneticamente che andrebbe in palestra guardando un secco nelle foto no? o un personaggio che magari è poco portato ed è anche drag free però se prendiamo un soggetto mettiamo anche come me no? io ho un bel fisico penso ad avere un buon fisico no? almeno l'ho portato a un livello migliore ultimamente uno vorrebbe essere come me a 40 anni si può fare da drag free? sì, si può essere come me si può fare ciò donna di panca da drag free? sì si può fare 190 di panca, si può fare 290 di stacco, si può fare tutto ragazzi il problema è che non tutti possiamo arrivare ad essere come questi soggetti o come me perché c'è una componente che purtroppo e per fortuna perché se no saremmo tutti uguali la natura dà a caso i fattori genetici quindi magari nessuno potrà avere il mio petto o le mie gambe magari potrà avere le due spalle più larghe io ho dei polpacci molto indietro come dice Marco Pitti ma ho un petto avanti qualunque cosa io faccio per il petto sono superiore ad altra gente che di fabbrica deve farsi un mazzo e questo è una componente dettata dalla genetica non siamo tutti uguali perciò dato che non siamo tutti uguali c'è chi senza steroidi raggiunge un ottimo fisico chi neanche bombante se ci riesce e dato che non lo accettano questa frustrazione li porta a dire no quello è dopato perché se io forse avessi dopato come direbbe Marco quando prende in giro l'italiano se io faresti, se io sarebbe dopato tu saresti vabbè adesso ce ne usciamo fuori e quindi questo ci porta poi a dire quello è dopato, quello è natura ci scandalizziamo tutti ma voi che cavolo me ne frega io sono cresciuto negli anni 80 con i film di Stallone Rambo e con i film di Arnold Schwarzenegger Terminator, Conan e altri video altri film, sì vabbè video sono parlato sempre di YouTube e queste persone erano palesemente dopati ora noi da piccoli ignoravamo questa cosa pensavamo che fossero natural questo ci ha portato ad essere delusi nel momento che abbiamo saputo che questi soggetti da grande fossero dopati? No nel frattempo cosa abbiamo fatto? ci hanno portato in palestra per diventare come loro quando uno vede i miei eroi della Marvel vede questi personaggi super pompati vorremmo essere come Hulk vorremmo essere come Wolverine che importa che siano fumetti ci ha ispirato a diventare come loro per questo dico io che il dopato di per sé a prescindere che sia o meno dichiaratamente tale non ve ne avete fregato un cazzo dovete pensare semplicemente quello è un bel fisico quello è forte io voglio diventare come lui ci provate a diventare come lui ma non ci riuscite magari però vi siete fatti un culo tanto e alla fine della fiera quando avete scoperto che il vostro begnamino fa coming out non dovreste essere delusi dovreste dire ah ah nonostante tutto l'ho raggiunto quasi cioè dovreste anche essere quasi contenti per dire io da natura l'ho raggiunto dei livelli quasi come il suo poi ovviamente c'era l'asticella del doping che ci ha distanziati per questo a me non frega niente se una persona è dopata o meno io dico io provo a batterlo intanto può essere uno stimolo in più però è un ragionamento che può fare una persona che ovviamente ha una base di genetica se siete nati un po' più sfigati a livello tendinio muscolare osseo ostio come si dice ostio vabbè quello insomma quello no è normale che partirete già un po' più prevenuti e delusi è uno sport non meritocratico qualunque esso sia che sia il powerlifting che sia il bodybuilding tutti partiamo ad un livello più uno minuti più svantaggiato dobbiamo metterci dei limiti che siano relazionabili siano relativi alla nostra struttura ok perciò io potenzialmente potrei fare due eventi di panca sì se mi dedicasse solo alla panca potenzialmente da track free potrei dico potrei arrivarci questo non vuol dire che due eventi da natural si possono fare sì se siete soggetti portati per quella alzata basta vedere come inziate in palestra avete fatto 150 anni di panca e quanto tempo ci avete messo io ci ho messo subito qualcuno ci metterà una vita qualcuno non ci arriverà mai e quindi quello che non ci arriverà mai vedrà quel tizio che ha 18 anni facendo 15 anni di panca è dopato no perché quel ragazzino è partito con una base genetica diversa dalla tua prendiamo Dragon Ball un esempio Freezer diceva io non mi sono mai allenato ero già forte quando Goku è venuto nel piano della Mech non mi sono mai allenato Goku si è fatto un culo tanto perché era meno portato di Freezer ma questo non ha spinto Goku a dire ahà Freezer è dopato no si è fatto un culo e lo ha battuto Freezer poi ha capito che doveva impegnarsi e poi ha fatto il culo lui successivamente col Golden Freezer poi Goku si è allenato insomma capite no Vegeta è un personaggio che era geneticamente superiore rispetto a Goku quando era bambino però si è un po' adagiato sulla sua genetica fino a quando non ha incontrato Goku che lo ha stimolato è questo il punto il dopato per noi è uno stimolo per andare in palestra per arrivare a superare i nostri limiti io sono cresciuto nell'era Coleman nell'era dei J.Cat e vedevo questi mostri questi freak e dicevano se potessi arrivare anche un decimo di quello che è Coleman ma è grazie a Coleman che mi ha spinto in palestra è grazie a Arnold i suoi film se fossi cresciuto prendendo lo sfigato del paese ma chi cazzo si è andato in palestra questo è il massimo che geneticamente posso raggiungere capite il problema qual è? secondo me questa cosa è il Nattiornot è solamente un discorso che fanno i secchi e gli scarti scusate gli scarsi non voglio dire scarti perché è brutta parola insomma le persone che sanno che non sono tanto portate per i pesi ma più per lo studio ok? il classico nerd che non so parlo per stereotipi sono discorsi di questi quindi questi creator che si basano sul Nattiornot non fanno altro che raccogliere frustrazione dalla massa di persone che sanno che non saranno mai neanche un centesimo di questi soggetti molto portati che sia un fenomeno dopato o che sia un fenomeno natural e quindi loro raccogliono questa sorta di rabbia sociale sono tutti quanti sporchi dopati se tu prendi una persona che non è portata e la dopi e rimane un asino dopato in questo caso tu prendi un asino lo dopi diventa un asino dopato ok? un cavallo di razza lo dopi diventa uno stallone diventa un cavallo da corsa come capire se si è portati? lo si vede da quando ci paragoniamo ad altri nostri quaitani a seconda del livello di partenza di fabbrica ok? molti mi dicono ma Domi tu a 40 anni fai dei pesi che adesso i ragazzini fanno a 18 anni ragazzi 20 anni fa non c'erano le conoscenze che hanno i ragazzini di oggi potrei dire mia figlia ha 4 anni e gioca col tablet quando io magari neanche sapevo cos'era una macchina da scrivere e quindi che vuol dire che mia figlia è dopata? no è partita con un bagaglio culturale diverso dal mio oggi abbiamo tutorial abbiamo una scienza migliore anche a livello di alimentazione abbiamo un tocco cose che in 20 anni non c'erano io ho perso gran parte della mia vita a cazzeggiare qualcuno che invece parte a 16 anni già con un coach già con un tutorial di youtube ha una potenza della madonna io non sono mai stupito di vedere ragazzi 16 anni 18 anni 20 anni come quelli che ho portato nel mio canale che avete accusato di essere dopati solo perché a 16 anni sembrano più vecchi ovvio se uno è così portato già parte anche molto precoce a livello di ormoni penso poi sicuramente ci sarà qualche dopato sì ma voi che cazzo ve ne frega vedere un 16 anni che fa 230 di squat non vi stimola a dire cazzo io ne ho 14 gioco alla playstation io ne ho 18 e manco faccio 190 di banca oppure vedere una donna come Carla Garra fortissima non vi stimola a poter diventare più forti sì ragazzi loro non sono altro che stimoli per migliorarvi sono quello se non ci fossero loro se non ci fossero questi fisici marmorei anche dopati non saremmo così motivati perché vedremo ci baseremmo sulla media mediocre delle persone poco portate vogliamo vedere solo secchi in giro solo gente poco portata prendiamo i fenomeni usiamoli come stimolo ma non ci intossichiamo col fatto che se non arriviamo come loro o non partiamo col presupposto quello è dopato non sarò mai come picci non sarò mai come cadino che siano dopati o meno a noi non ce ne deve fregare non dobbiamo pensare vogliamo essere come loro con la nostra genetica ci facciamo un culo come loro perché loro si fanno un culo e vediamo dove arriviamo mio fratello ha ricominciato ad allenarsi e ha fatto 170 di banca quando sono 20 anni che non si allena che si allena ma non si impegnava Pici ha avuto quello stimolo andare a Rimini Wemer tutti quei fisici ha detto cazzo ma io posso fare di più voglio diventare come loro voglio battere loro poi sono infatti niente se non ci riesco in questo percorso sono migliorato grazie a questo stimolo quindi prendete la parte sana del not your not ovvero fatevi dei micro obiettivi prendete un tizio come Stallone metteva la foto di Ivan Drago e poi la stracciava no? sullo specchio e va fuori ad allenarsi Ivan Drago era topato Ivan Drago era imbattibile era in gigant io ci provo diceva Stallone io ci provo fatelo anche voi io ci provo provateci impegnatevi poi ovvio che se vi prendete poi ovvio che se prendete un soggetto come me che è drag free almeno se ci credete perché poi c'è qualcuno che dice anche che è ma nel power lift sì anche nel power lift si dopano ragazzi ovvio ci sono i testati di opi c'è chi modo per elunderli però comunque fa da monito e quindi scusate che lo so faccio schifo ma non ho un fazzoletto pronto questo è il bello della diretta ok? non posso tagliare questa scena quindi mi devo un attimo tirare sul naso uh facciamo una pausa minutaggio siamo a 15 minuti potremmo anche farlo più corto eh perché ho già finito il discorso quindi prendetemi come esempio io mi sono fatto un culo anche se qualcuno dice Marco Pt dice no non è un dissing questo ragazzi perché ultimamente nelle storie Marco dice sempre che ho avuto culo ok diciamo che io sono cresciuto già col petto grosso già con 190 di panca tutta fortuna però intanto abbiamo dimostrato che un soggetto fortunato che ha vinto la lotteria cioè è arrivata la dea bendata e con la cornucopia e mi ha buttato tutta la genetica a me togliendomi i capelli e i polpacci e mi ha dato queste doti di natura no? ok quindi questo dimostra che intanto ci deve stare la genetica poi tanto che la forza è sì una qualità innata ma si può aumentare qualcuno ha detto che la forza è al 70% innata e al 30% allenamento me lo pare che lo disse Paolo Evangelista o Evangelisti non mi ricordo anche più il cognome quindi io una volta che ho preso coscienza delle mie potenzialità genetiche lo potete sapere sto facendo uno sport specifico se avessi iniziato a fare crossfit avrei detto non sono portato e invece poi ho visto facendo pesi che ero più portato a quel tipo di attività la sollecitate vi allenate e cosa succede? che migliorate migliorate mano a mano nel tempo riuscite a progredire quando vedo un soggetto dopato sì anch'io devo dire la verità inizialmente perché comunque è un sentimento italiano dico subito ah ma quello è dopato ah ma quello è così per le bombe ma se riuscissi a batterlo e umiliarlo pensa quanto rosicherebbe anche se riuscissi ad arrivare vicino a lui io ho fatto un pa anche con soggetti enhanced e li ho superati nonostante ovviamente io fossi più specializzato di loro però le bombe non sono un miracolo anche con le bombe bisogna avere un minimo di genetica e ci vuole anche ricezione non è che se prendi le bombe diventiamo tutti come pici e come cadino quei soggetti saranno sempre superiore a noi a prescindere che si bombassero o meno quindi a voi non cambia niente voi dovete pensare a voi stessi guardatevi lo specchio immaginatevi con 10 kg in più o con 10 kg in più di massimale sulla panca come sareste? è possibile? provateci ma non lo so non sono abbastanza appassionato e stimolato però ho visto pici ho visto cadino ho visto Mr. X se potessero e se ci fosse un modo per essere come loro da natural oppure scopriamo vediamo se da natural è possibile essere come loro gli faccio il culo ok non ci sono arrivato quindi lui è dopato io no? no semplicemente o non ti sei impegnato abbastanza o non sei come loro geneticamente o sì potrebbe anche essere dopati ma a te non cambia niente togliamo le bombe a tutti domani tu ti sentiresti meglio ti sentiresti più appagato però qualcuno dice eh ma questi influencer prendono in giro i ragazzini no? no in realtà no ripeto tanti ragazzini che vanno in palestra guardando faccio un altro nome? no non lo facciamo dunque un ragazzo un soggetto molto famoso su tiktok no? che è famoso per il suo fisico tanti ragazzini lo seguono si dice è dopato non è dopato questi sono entrati in palestra grazie a lui poi scoprono che non lo è o poi scoprono che è dopato ma questi ragazzini intanto sono entrati in palestra si sono iscritti hanno pagato un abbonamento hanno fatto una scheda si sono allenati e sono migliorati tutto grazie a quello lui a quell'influencer poi se il fanatismo e a idolatrarlo vi porta una sorta di morbosità dal punto che se dovesse essere un traditore o uno spacciatore vi porta poi a smettelenarvi vuol dire che non vi interessava così tanto allenamento vi interessava semplicemente leccare il culo a qualcuno e questo non va bene quindi non lo so non vedo neanche male in questo nell'influenza che magari si spacciano per quello che non sono si moralmente può essere visto male impocrita bugiardi però mettiamola così se questi influencer dopati vi dicessero subito ah io sono dopato tu non andresti più in palestra ah beh allora io non voglio doparmi non sarò come lui no lascia perdere allora no invece se loro vi dicessero no io sono natural tutto è possibile da drag free essere come me tu si vieni ingannato ma con questa cazzata con questa bugia ti porta in palestra ti fai un culo tanto perché sai che da natura si può essere così e poi dopo tre anni che sei cresciuto ma non sei come lui rimani male no non devi rimanerci male guarda da positivo ti sei fatto un culo tanto hai preso massa hai preso forza e poi scopri che eri topato ti abbiamo preso in giro sì ti abbiamo preso in giro per farti andare in palestra per farti credere che potessi essere così perché se no tu non ti saresti mai allenato non ti saresti mai abbonato in una palestra non avresti mai compato in home gym quindi io devo solamente dire grazie a tutti quei soggetti dopati o meno dichiaratamente tale o meno che hanno spinto tante persone a entrare in questa industria del fitness diciamo un bel grazie poi sì sono dei bugiari sono degli ipocriti ma senza queste bugie queste ipocrisie questi io li chiamo test psicologici giochetti magari no che vi hanno indotto a entrare in palestra con l'inganno ma nel frattempo siete migliorati siete cresciuti e siete anche più forti ok nel mondo del powerlifting chi guardiamo è Diol negli strongman vediamo che ne so campioni del mondo internazionale nostro sono topati o meno vedere questi chili enormi ci hanno spinto anche noi a sollevare Giza eh ma è topato eh ma quello è è troppo tirato sai che è non diventerò mai come lui sto a casa evidentemente non era per te a prescindere cercavi solo una scusa cercavi una giustificazione per rimanere sul divano a non fare un cazzo è questa la verità ecco ho finito penso di aver detto tutto spero che sia stato molto esoriente consigli per gli acquisti ovviamente come sempre se volete supportarmi potete anzi c'è una marchetta già alla fine del video ma la rimarco faccio coaching online volete diventare forti grossi volete fare bodybuilding powerlifting volete fare un'esperienza di gara mi contattate in privato vi faccio un'anamnesi e poi iniziamo senza problemi alleno chiunque non ho problemi agonista non agonista scarso non scarso vi potete scrivere su telegram o su instagram io su instagram mi rispondo sempre a tutti ragazzi è come parlare con mio telefono in privato e non mi disturbate non potete dire qualsiasi cosa ovviamente senza insulti e senza richieste tipo com'è la banca piana me la correggi non faccio correzioni in chat ovviamente perché c'ho un servizio poi volete la mia integrazione c'è un video con Marco Pitti fatto della Zec Plus su creatina multivitaminici proteine la FitNex X dovrebbe rimettere il corso nostro online quindi sarà quando sarà possibile comprate anche quello la Insane Stone dovrebbe tornare questi video ovviamente quando li faccio non so mai se escono prima o dopo e quindi metto le mani avanti e quindi se volete comprare l'attrezzatura aspettate che la Insane Stone mi riattiva i codici basta che altro devo dirvi ci vediamo al prossimo video vorrei trattare il fenomeno del dissing come sapete mi avete sempre attaccato domingo il dissatore il dissing di paga non paga vi racconterò tutta la mia esperienza pro e contro del fare dissing ma anche la parola dissing cosa significa perché è anche molto abusata dato che è un termine che viene dal rap però lo spoileriamo nel prossimo video ci vediamo alla quarta puntata e se siete ancora a cena buona cena e buona visione se sei arrivato fino a qui vuol dire che ti è piaciuto questo video perciò metti un like e iscriviti al canale e se vuoi essere allenato da me io faccio un coaching online personalizzato con un programma e una supervisione tecnica per vedere tutti i tuoi errori questo tramite sito che poi sarà online a breve oppure puoi scrivermi nei contatti in descrizione ma soprattutto posso consigliarti la mia integrazione attuale che è quella ZEC Plus dove potete acquistare tutti i prodotti come integratori omega 3 creatina tutte le varie sostanze che io assumo abitualmente con il codice sconto DOOM64 sempre quello e potrete avere uno sconto del 10%